Benvenuto su Yumpu, benvenuto su WebKiosk, il modo più semplice di condividere le proprie riviste con familiari, amici e il mondo intero. Ma WebKiosk è tanto altro ancora. Visita la nostra presentazione rapida e scopri le tante opportunità offerte da WebKiosk, tutte gratis, al 100%. Partendo dall'alto, nella visualizzazione si può inserire non solo un proprio logo, ma anche una soluzione di navigazione perfettamente flessibile. Naturalmente si può scegliere anche di posizionarli in altri punti. Con il sistema a blocchi di WebKiosk non c'è problema. Il prossimo elemento, quello più centrale, è naturalmente la rivista in sé. Sfogliare, ingrandire, leggere, condividere come più si preferisce e chi possiede più riviste può anche selezionare quale di queste deve essere visualizzata per prima. I proprietari di riviste, cataloghi, manuali per l'uso o documenti simili possono tranquillamente ordinarli in raccolte e poi suddividere queste ultime in altre sezioni. Qui, per esempio, mostriamo due raccolte distinte per cataloghi in lingua tedesca e inglese. WebKiosk risponde a tutte le esigenze. Oltre alle riviste, offre anche tante altre soluzioni interessanti. Per esempio, potrai creare un collegamento al tuo profilo dei social media direttamente da WebKiosk, così avrai nuovi fan. Oppure potrai tenere aggiornati i tuoi follower su Yumpu con le ultimissime notizie dalla tua home page. È tutto automatico. Ancora, potrai mostrare la pubblicità dei tuoi prodotti o della tua home page, offrire contenuti solo agli abbonati e consentirgli di accedere direttamente da WebKiosk, generare nuovi abbonati alla newsletter e informare i tuoi lettori se nel tuo WebKiosk ci sono novità da leggere. Infine, con la funzione di Embedding, potrai integrare tantissimi servizi nel tuo WebKiosk e creare moduli, biglietti e tanto altro ancora. Oppure potrai utilizzare blocchi a contenuto libero per inserire informazioni e testi a tuo piacimento. Per esempio, per inserire informazioni sulla tua azienda, descrizioni di prodotti, elenchi, link, senza limiti per la tua creatività. Puoi utilizzare il piedi pagina per inserire informazioni e link, per esempio per la sezione InPrint. Grazie allo Smart Banner puoi attirare l'attenzione dei visitatori sulla tua app per iOS o Android e generare più download. Sul tuo WebKiosk oggi c'è tutto questo e tante altre opzioni. Ovviamente puoi trovarle anche nella rispettiva URL se lo desideri.